La farmacia è sempre di più, sono diventate simili l'una all'altra. È una farmacia che sta vivendo una vera e propria guerra, la guerra dei prezzi. E quindi quello che vi voglio dire oggi, un messaggio importante che vi voglio dare, che non è una battaglia che la farmacia ha con la GDO, con il farmacista concorrente, non ce l'ha con le parafarmacie e non ce l'ha nemmeno con internet. Questa battaglia non avviene in questi campi, la battaglia avviene nella mente del cliente. Provate a fare questo esperimento con i vostri clienti e a dirgli il mio negozio che cos'è? Lui vi risponderà farmacia. Voi siete una farmacia. Però il problema di essere oggi nella categoria farmacia è che comunque, come abbiamo detto prima, in questa categoria la concorrenza è altissima. E quindi questa è la sfida che dobbiamo oggi percorrere. Come possiamo posizionarci al primo posto nella mente dei clienti? Secondo me è possibile farlo trovando il proprio cavallo di battaglia. Cos'è questo cavallo di battaglia? Perché ognuno di voi sono convinto che lo può trovare. Vorrete approfondire gli argomenti di cui abbiamo trattato. Vi aspetto al prossimo appuntamento Capsula. Trovate il calendario sul nostro sito www.saltorettoverna.it Saluti a tutti e grazie di essere stati con noi. E grazie ai nostri ospiti ancora. Grazie a tutti.